buongiorno io sono nicola colbertaldo mi occupo della cantina e della carta vini e della casa brusada e in più gestisco l'enoteca brusada wine sono sempre stato appassionato di vino e anche di cucina tant'è che a 22 anni quando sono partito per per londra dove dovevo andare a lavorare in tutt'altro settore ho avuto l'opportunità di entrare e lavorare in cucina con un cuoco pugliese dove mi ha seguito molto e lì è stata un po la svolta della mia vita sono inserati mi sono inserito in questo settore e da lì non sono più uscito nel senso è iniziato questo vero amore per la cucina dove è proseguito con i vini e col servizio diretto con più a contatto con quelle persone ho la fortuna di lavorare in questa enoteca e ringrazio marco per la possibilità di di fare una selezione assieme a lui di tutti i vini di tutti i prodotti alcolici super alcolici abbiamo parecchi più di 200 300 etichette di vini italiani dal nord al sud è una bella selezione di vini francesi allora oltre alla nostra carta vini quindi notteca proponiamo una bella mescita circa 15 etichette tra bollicine bianchi e rossi e affianchiamo il tutto con degli snack con dei piatti più semplici rispetto al ristorante però con prodotti qualità quindi uno può venire a farsi l'aperitivo e può venire a fare anche una cena per il dopo cena abbiamo anche dei distillati dei room oppure una vasta selezione di zin bello di questa enoteca è che abbiamo la possibilità di soddisfare le esigenze richieste dei turisti stranieri dove magari è più richiesto il prosecco di ocg asolo valdoviadene conegliano però anche molto bello e interessante perché i clienti locali invece magari richiedono più le cantinette un po particolari le cose un po diverse e meno comuni c'è un clima un'atmosfera molto amichevole quasi familiare e quindi per tutti i clienti abitudinari sono quasi di casa il bello è che anche per le nuove persone per i nuovi clienti che arrivano scoprono e si inseriscono molto facilmente in tutto questo ambiente e questa atmosfera e quindi è piacevole anche per i nuovi clienti per i nuovi arrivati